Grazie a tutti. Bene, bene. Abbiamo altri visitatori che sono giù. Ecco, come mai avete scelta in pratica? Eh, poi si trova. Però più trova, più trova, più trova. Ecco, la scelta, per questo viaggio, è arrivare a St. Alcanccio-Lontrimonte. No, dico, va bene. Benvenuti a Sant'Arcangelo. Speriamo che dove andremo, nel posto dove avverrà la mietitura, sia un poco più ventilato. Per tutti, io parlo per me, povero falso magro, soffro particolarmente il fatto. Oltra, siamo tornati nella seconda e dato che non c'è due senza tre, Nicola, siamo qui. Grazie a voi. Grazie a voi. E va di lui quella terza volta. Certo, nel tempo. Ah, perché te l'ho detto, nel tempo. Cosa che io vorrei, per poter andare a fiume, metterlo a bagno come si faceva, e poi usarlo nel frecchiaturo. Sì, per sé, sì. Però qui lo sacco che tu tenevi, quella a Bisanzio che tenevi. Sì. Figlia di quella. Sì. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti